musica 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 benvenuti su cazzeggiamo su videogiochi oggi per voi alfa gg gamer e oggi siamo in compagnia di azon ciao raga e sono in compagnia non farà niente ragazzi prima di iniziare con quello che ci interessa di arson volevo dirvi questa novità sentite la mia voce è più calda più bella più definita ho comprato il nuovo microfono solo ho comprato il nuovo microfono solo per voi per il canale esclusiva perché non potevo avere l'audio che avevo prima ho cercato migliorare la qualità audio proviamo col video se ci riesco qualcosa ho speso solo per oggi e lo fanno da vent'anni si a posto di pagare 100 euro oggi facciamo pagare 99 euro e 99 domani 99 e 98 ma basta che se non ci mandano come pensano che stiamo facendo trevento spero che negativa tra parentesi mi fa fallare spero che questo questa cosa venga accettato non accettato come si dice cioè che avevo in bocca non mi ha fatto pub in che senso venga c'è abbia dei risconti questo miglioramento c'è un più iscritti non ho capito fammi sto favore e comunque oggi adesso abbiamo finito di questo discorso parliamo di arson non faremo una partita ma oggi spacchetteremo spacchetteremo perché abbiamo in una settimana fatto 10.010 monete oh gg vedi raga tranquilli volevo fare l'altro dei ragni però costa 700 ho visto un paio di video su youtube e chi ha giocato cioè chi ha fatto quelle modalità ha dei mazzi veramente forti io non ho mazzo con carte basilari quindi prima di fare quelle quelle modalità stavo dicendo shop prima di fare quelle modalità sbusto stavo a spendere 10 monete ma sapete raga ora io non vorrei dire niente però lo dico sapete perché Giangia ha comprato il microfono nuovo no e perché ha tutti questi soldi su airstone perché ha preso la partnership no non è vero non l'ha preso però magari vabbè ok scusate ha preso la partnership sì sì mille li ho spesi li ho spesi signore sì sì lo sto facendo solo per voi 10 buste mamma solo per oggi solo per oggi forse solo per oggi mi vendiamo mi vendiamo questo pacco di mutante che usate primo pacchetto primo pacchetto ho gli occhi chiusi ho gli occhi chiusi ve lo giuro ho gli occhi chiusi sì sì però aspettate devo alzare la busce se no non sento no no epico leggendario io ecco qua prima carta un buon parolo pazzo mmm l'audio sta carta perchè mi sembrava buona l'avevo io creata con la creazione e poi il giorno dopo mi esce nel pacchetto e si fa male solo va ah questo il sergente violento più due ha un tuo servitore per questo turno oh oh il drago finalmente la stavo cercando da un po' il drago di mana oh oh rara la rara fabbola di spade non mi serve rara leggendario è bella questa carta infligge un danno a un servitore e quelli adiacentrili è bella questa cosa bella già questo spacchettamento mi piace ok è il primo pacchetto è andato andiamo col secondo pacchetto no no questa non mi piace anche se vabbè non mi piace rara alla fine del turno subisce un danno ed evoca un impostoculatore adron moderati moderati però eh moderati certo impara a parlare tu invece un'altra rara bella questa fornisce due cristalli di mana o pesca tre carte però non mi serve perchè il druid non lo uso è epica gg quando avvi con un servitore la spada della giustizia gli fornisci uno più uno ma perdo un'integrità bello non ho capito un cacchio ma ok questa già ce l'ho e il secondo pacchetto è andato ah però te lo volevo dire che anche azzone ha comprato il microfono quindi avevo già detto in un video che caricherò tra 20-30 anni perchè ho altri 20-30 episodi che si può ingercare o donata 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 pesco la carta per ogni tuo povera personaggio danneggiato bellissimo io ho registrato 3-4 episodi di dei solo per il microfono con il microfono nuovo è bello ho pure pop filter quindi mi sento proprio oh ma da fuck uh bella la gallina arrabbiata mi piace troppo questo già ce l'ho ecco questo pacchetto fa un po schifo andiamo con il terzo pacchetto eh già la parte non è che ti dà le carte rare per forza provocazione bella perchè ha preso la parte del combattimento rare infatti c'è mai essere siamo pappe cippa eh pappe cippa pappe cippa pappe cicci cicci va bene segreto quando un nemico attacca evoca un difensore 2-1 come bersaglio diavolo di sabbia furia del vento sovraccarico due cristalli di mana rara rara dorata dire rara dorata gg infligge 5 danni rigena 5 saluta il tuo rara error error allora andiamo con il quarto pacchetto bella questa costa pure zero faccia le caccia evoca un servitore di mana epic ah faccia idee oh oh bella rara grido di battaglia distrugge un servitore nemico casuale con attacchi pari a 2 o inferiore e poi imp e imp della fiamme infligge 3 danni al tuo eroe cioè io mi faccio le mani si esegua la combo per fatti del male? bombarolo pazzo e un po' delle fiamme aspetta aspetta forse il volume è un po' troppo alto rara si rara uh altocrine della savana delle savane evoca 2d e 2-2 questa già ce l'ho rara rara che cosa rara non ce l'ho giudici di battaglia ha tornato un altro servitore in la tua mano andiamo con il quatt'ultimo pacchetto rara rara questa già ce l'ho raddoppia l'attacco di servitore evoca con un squillido 2d e 2 Già ce l'ho, già ce l'ho, non ce l'ho, bella questo Terzo ultimo pacchetto senti, terzo ultimo pacchetto Devo ancora abbassare il volume Sembra che stavi scatando Ecco, apriamogli il terzo pacchetto Rara, rara Ottieni 2 più 2 se controlli un segreto alla fine del tuo turno Questa già ce l'ho Furia del vento, bellissimo Pesca 2 demoni casuali dal tuo manzo, ma io non uso demoni Segreto, quando un nemico attacca e... Oh, questo già lo so Penultimo pacchetto Ottieni più 1-1 quando giochi una carta controlla a carico Una rara Provocazione e grido di battaglia, distrugge uno dei due cristalli di mana Provocazione di slow Quando... già ce l'ho Distrugge un servitore nemico casuale Ultimo pacchetto, signori Voglio trovare il drago di zaffiro Voglio trovare il dannato drago di zaffiro Non guardo, ragazzi, non guardo Ok, vado... ecco Adesso so... ora chiudo Niente Questa è bella Questa già ce l'ho Questa già ce l'ho Questa non ce l'ho L'ultima, ragazzi Voglio trovare il drago di zaffiro No! Dannato! Batte il Hearthstone nel caccio Il suo giunto servitore infligge danni e pare al suo attacco a tutti i servitori e amici Intanto qui vedo gente che entra offline Entra... Eh, notello questo Hearthstone Eh vabbè Ragazzi, ragazzi, ragazzi Ah, intanto ho anche fatto anche il ranking Vostro Gigi Ma è già finito il video No, non lo sto ancora continuando Eh, dico... Sì, ho finito di spacchettare Che money grabber, fai video da pochi minuti, schifo Faccio pure pubblicità alle Eming Flack Eming Flack Va bene, ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Spero che la unità dell'audio vi sia ancora più piaciuta Il video finisce qua Al prossimo video Da Affagione Gamer E da Azzon Ringraziamo la partner E niente, ciao raga Ciao, ciao